Colpa di una situazione che io non ho creato, io subisco purtroppo e vada qua, un ambiente di questa portata così è naturale che mi dispiace, no? D'altronde non posso fare niente. Che posso fare? Apro ora, apro fino alle 6, guarda la piazza. Che lavoro? Un'ora per cosa? Per 100 euro con 5 persone? Impesso di pensarlo. Nonostante lo spiraio di zona gialla, ad Arezzo c'è chi ha deciso ancora di non rialzare la saracinesca. Se infatti i bar e i ristoranti finalmente possono riaprire battenti non solo per l'asporto, alcune luci come quelle del Caffè dei Costanti, uno degli storici locali a Rettini, sono ancora rimaste spente. Certamente qui la mattina non passa un'anima, poi la sera se fino alle 18 guardate la piazza, non c'è mica bisogno che te lo dica io. Guarda la piazza, adesso sono quarta alle 5, fino alle 6, alle 6, 5 arriva due vigili e mi dicono di far assare le persone, questo a me e a tutti. Non lo so se in un'ora uno recupera 5 persone che lavorano qui. Quanti dipendenti ha? 14. Mi capisci te che sono cifre da capogiro? Purtroppo io quando riapro devo riassumere le persone, quindi diventa un gioco, un tiro e molla che alla lunga non paga assolutamente. Oltre che essere una rimessa a bar chiuso, è una rimessa anche se apri. Lei è dipendente in casa integrazione attualmente? È naturale, per ora sì. Tutti questi mesi che aiuti avete avuto dallo Stato? Lascia stare, forse è meglio metterle un drappo nero come sta mascherina e stare zitti. Lascia anche questo ultimo ristori che dicevano essere in arrivo, peraltro si parla di 7-8 mila euro. Non ho visto nulla. E tutti i giorni qui quando apro ci trovo una bolletta della luce, del gas, dell'acqua, quello va avanti anche a bar chiuso. Qui lo scorso ottobre era apparso un cartello, chiusura obbligatoria a tempo indeterminato, purtroppo quella data ancora non è arrivata. Speriamo che il cielo ci aiuti, che a maggio ricominci un po' di turismo, che siamo vaccinati. Cioè, lei che spera di questo Covid? Uno spera, penso che sia all'unisono la speranza, no? Cioè nel senso che speriamo il Covid venga un po' debellato da questo vaccino. Altrimenti credi che le speranze sono, sono, sono speranze.